Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo fantasy, che si sviluppa intorno al tema del passaggio generazionale di conoscenze e poteri legati alla magia e alla superstizione. Si distingue per la sua rappresentazione della cultura sudamericana e per il modo in cui affronta temi come l'eredità familiare, il potere personale e la lotta contro le avversità. La trama del libro La mano che cura, della scrittrice Lina Maria Parraocioa, pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli, è la seguente. Prima arrivano le mosche. Quattro mosche che le ronzano per casa, a Medellina. Poi, una sera, Lina si trova davanti una donna dalla pelle scura come la notte che la invita a cercarla. Si chiama Ana Gregoria, anche se il suo nome non lo rivela e Lina non l'ha mai incontrata. Ci sono cose che si sa che esistono anche se non si vedono e cose che si vedono pur sapendo che non esistono le risponde la madre quando Lina glielo racconta. E così inizia la sua storia. La storia di quando Lina non era ancora nata e sua madre Soledad aveva 11 anni e una maestra di quinta elementare di nome Ana Gregoria. Una donna come non se ne erano mai viste in quel paese tra i monti dell'Antioquia, con la pelle scura come la notte e l'accento di chi viene dal mare. Sarà Ana Gregoria a svelare a Soledad chi è realmente. A farle immergere le dita nella terra per sentirla fremere. A insegnarle a mescolare erbe e radici e a pronunciare parole per invocare il silenzio intorno a sé e non essere vista né sentita. A parlare con le ombre. Perché la piccola sole ha la mano che cura. Adesso tocca a Lina scrivere la sua storia, proprio mentre attorno a lei, dopo la scomparsa del padre, tutto sembra sgretolarsi e trascinarla verso un abisso. Ana Gregoria, ormai anziana, la sta chiamando. Spetta a Lina decidere se accettare un'eredità tanto preziosa quanto fragile, che si tramanda da generazioni tra superstizione e folclore. Perché non tutti capiscono i suoi poteri, la mano che cura può essere una benedizione, ma anche una condanna, e Lina dovrà fare la sua scelta. Con una scrittura potente, a tratti quasi ipnotica, che carica il racconto di tensione tellurica, Lina Maria Parra Ochoa intesse una storia tutta al femminile, che ruota intorno alla figura della bruia e si muove agile al confine tra magia e realtà, nel solco della migliore letteratura sudamericana. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.